Guidesi, non lo vedo più. È accolto come raccomandazione? Ok. Invernizzi, parere contrario, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Palese, ok. Altri che non riescono a votare? Grillo, Spadoni, Locatelli, Terzoni, Carbone, Andrea Romano, Romele. Non tolga la testa, però, non tolgo la pallina. Romano, Andrea. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 383, votanti 379, astenuti 4, maggioranza 190, favorevoi 145, contrario 234, la Camera respinge, Busin è accolto come raccomandazione, scusate, riformulato, Guidesi è accolta la riformulazione, mentre invece quello del 52, Pini, c'è un parere contrario, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Qualcuno non riesce a votare? Romele, Terzoni. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 375, votanti 372, astenuti 3, maggioranza 187, favorevoi 139, contrario 233, la Camera respinge, Rondini è accolto, Romanini è accolto, Cenne è accolto, Tentore è accolto, Taric è accolto, Mattarelli riformulazione, Mattarelli è accolta, bene, Cuomo è accolto, Frego, lente riformulazione è accolta, Blagini è accolto, Sciulian è accolto, Planger è accolto, Catanoso, Genovese, c'è un parere contrario, lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Terzoni. Simonetti ha votato. Altri? Va bene, la votazione è chiusa. Presenti 376, votanti 315, astenuti 61, maggioranza 158, favorevoi 77, contrario 238, la Camera respinge, 65, Vargiù, c'è un parere contrario, se nessuno chiede intervenire...